Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere il cantiere appena ultimato di questo edificio dove abbiamo applicato il bonus facciate, abbiamo rifatto la copertura con il sisma bonus e abbiamo strutturato la facciata utilizzando il bonus facciate abbiamo applicato a questa facciata ammalorata della calce naturale qui possiamo vedere la lavorazione ancora in atto del fondo di calce dove appunto viene messa poi la rete questa è la prima parte della lavorazione con il fondo di calce mentre qui è l'ultimo strato dove è il colore, la finitura prima di fare la finitura abbiamo messo la rete in modo da evitare le cavigliature soprattutto negli angoli e nei punti dove ci possono essere delle idratazioni che vanno a inficiare l'intervento molto importante è stato lavorare su quello che riguarda l'umidità di risalita oppure l'acqua di risalto di pane infatti abbiamo utilizzato un intonaco macro poroso cioè quell'intonaco che una volta che si bagna riesce a smaltire poi l'umidità che riceve e poi anche qui andiamo a finirlo sempre con una calce che fa da finitura andiamo a vedere l'effetto della parete ultimata abbiamo visto le tre fasi la prima fase è quella che è con il colore grigio la seconda fase che è questa qui, con il colore nocciola e l'ultima fase è questa dove si è asciugata già la calce e vediamo che ha questo aspetto materialico questo aspetto che dipende molto anche dalla luce, dall'uminosità dell'ambiente esterno e come si può vedere questo poi è l'effetto dell'edificio finito appunto un colore tenue non un colore omogeneo come siamo abituati a vedere di solito nei edifici siamo in centro storico abbiamo cercato di utilizzare questo colore in modo da contextualizzarlo alla via e al centro nel quale siamo ok, per oggi è tutto spero che le informazioni sono state interessanti per te e ti ricordo che la mia casa è nicolapretti.it dove puoi vedere altri lavori dove utilizzo materiali naturali ciao